In denutata, di fronte ai suoi carnefici, le prendono i capelli, coprendo le sue nudità e proteggendola così dallo scolato dei piedi. Signore, concede equilibrio e sollievo a quanti soffrono per la caduta dei capelli o per altre malattie che riguardano i capelli. Dona a noi, medici antipologi, la capacità di alleggerire il disagio. Previamo.